Conoscevi contro Draco? Non volevo farlo! Lui stava cercando di maledirmi e io... Io ho... Devi liberarti del libro e io so dove potresti nasconderlo. La stanza delle necessità. Se vuoi nascondere qualcosa devi venire qui. Chiudi gli occhi. Ecco. Ora non lo troverà nessuno. Harry. Anch'io ho un segreto. Allora, tu e Ginny avete fatto? Cosa? Avete nascosto il libro? Oh, sì. Da qualche parte, nella stanza delle necessità. Nemmeno io so dove si trova. Beh, per me è un bene. Voglio dire, usare un incantesimo sconosciuto su qualcuno. Lo so. Almeno ora potrai concentrarti sulla missione di Silente. Finora non hai avuto molta fortuna, vero? No. Forse mi servirà proprio un po' di fortuna. Allora. Ma che cosa sono in seguito?